Professor Vazicchio, perché in queste terre dell'Appennino si vive di più e si mangia meglio? Qual è il segreto? La longevità è legata allo stile di vita, quindi anche a un regime alimentare. Il regime alimentare è legato a quelle che sono le condizioni ambientali e alla qualità delle produzioni che noi in queste terre possiamo produrre. La qualità delle produzioni agroalimentari diventa importante perché la Daunia è una delle piccole regioni che fa molta attenzione alla tutela della biodiversità agroalimentare. E attraverso questa tutela della biodiversità poi si esprime un patrimonio genetico che rappresenta il territorio e che è ambasciatore anche del territorio dal punto di vista gastronomico. Ma quello che è importante è che con questa biodiversità noi abbiamo molecole antiossidanti o comunque quelle che noi chiamiamo molecole bioattive che non svolgono solo azioni antiossidanti ma che sono molecole che svolgono azioni funzionali, nutraceutiche, che consentono al consumatore, a chi vive in questa terra, di approvvigionarsi di molecole che fanno bene alla salute. Questo può essere importante non solo perché si alimentano bene, ci alimentiamo meglio rispetto ad altri popoli più magari antropizzati sotto l'aspetto industriale del termine, però quello che è fondamentale è capire che l'ambiente e quindi l'area che caratterizza questo territorio, quindi le condizioni climatiche e l'alimentazione, lo stile di vita sicuramente contribuisce ad allungare la vita e rendere più felice le persone di questa terra. Ecco, i terreni dei Monti Dauni sono ricchi di selenio come qui a Dorsala di Puglia. Quanto è importante questo? È importante perché il selenio è uno degli antiossidanti più potenti che noi abbiamo nel mondo vegetale e guarda caso non è solo presente in tante culture, in tanti prodotti agroalimentari di origine vegetale, ma anche nelle riproduzioni naturali. Penso al fungo che viene prodotto naturalmente in queste terre e il selenio è uno che svolge attività antiossidante, cioè che neutralizza quei radicali liberi che la vita magari a seconda dei soggetti possono essere prodotti di più o di meno, per cui tendono a neutralizzarli e quindi rendono le cellule del nostro organismo a vivere meglio. Però il selenio svolge anche altre funzioni importanti che sono quelle che contribuiscono al nostro benessere e questo significa che possono essere anche stimolanti della risposta immunitaria, possono essere antitumorali per alcune altre molecole, per cui questi concetti più ampi dell'antiossidante viene valutato spesse volte meno, però come antiossidante significa che questi svolgono anche altre funzioni che aiutano il nostro organismo a vivere meglio. L'appuntamento con la Daunia organizzato da Peppe Zullo, giunto alla 27esima edizione, è dedicato al buon cibo come sempre, ma anche alla longevità. Perché si vive di più da queste parti? Qual è il segreto? Io credo che gli elementi più importanti per vivere bene, per stare bene, sono fondamentalmente due. Una è l'aria che respiriamo e credo che in queste valli il livello di qualità dell'aria che respiriamo è altissimo, perciò già questo ci fa stare bene. E poi, come dicono gli americani, we are what we eating, noi siamo quelle che ci mangiamo. E in questo territorio ci possiamo guardare intorno, incontaminato, la natura, ma tanto di, io dico, tanto di quel selvaggio, tanto di quel cibo sano, genuino, che ci viene dato gratis, nel senso che tutto quello di selvatico bisogna naturalmente riconoscerlo, raccoglierlo, cucinarlo e mangiarlo. In più noi, già da anni, c'è stato questo studio da parte del PNR di Pisa, all'epoca è uscita anche una pubblicazione, e poi ripreso anche dall'Università di Foggia, insomma, in questo anno, proprio sulla qualità non solo dell'aria ma della terra. Cioè, ecco, nella terra c'è una percentuale di selenio in più, che sappiamo tutti che, come dire, anti-aging allunga la vita e ci fa vivere più sane.